Nel video di oggi torniamo a parlare dell'agenda 2030 completando un pochettino il discorso che avevamo fatto sul video dove spiegavamo in generale in cosa consisteva l'agenda 2030 andando adesso a vederci quali sono i target in cui l'alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile di concerto con l'Indire e con il Mir ha suddiviso quello che è il macro obiettivo, il goal for indicato appunto nell'agenda 2030. Come sempre prima di partire ti ricordo di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto e di dare un'occhiata ai videocorsi che preparo per la piattaforma giuridica www.formazionediritto.it tra cui per il mondo scuola c'è il videocorso sulla normativa scolastica che mi fa molto piacere che ha aiutato molte persone in preparazione ai diversi concorsi o prove nel mondo scuola che richiedono la normativa scolastica. Vai a dargli un'occhiata può essere utile. Torniamo a noi allora parlavamo piccolo ricapitolazione agenda 2030 dicevamo obiettivi che nel 2015 sono stati sottoscritti anche dal nostro paese in una ad altre sono in totale 193 paesi membri dell'ONU fra questi c'era il famoso obiettivo numero 4 dedicato all'istruzione che io vado a rileggervi e che così dice assicurare un'istruzione di qualità equa ed inclusive promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti. Macro obiettivo il nostro paese per cercare di darne adeguata realizzazione si è strutturato prevedendo un'organizzazione costituita innanzitutto dall'alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile la SVIS leggo qui accanto a me alcuni sono riportato alcuni appunti necessari per poter spiegare meglio ebbene questa organizzazione interviene di concerto con l'indire da un lato e con il mio dall'altra per appunto attuare i programmi specifici per l'attuazione dell'agenda 2030. Dicevamo ha diviso in diversi target che adesso io qui vi vado a riportare in maniera un po' più dettagliata qualcosa dovrebbe comparire anche qui accanto a me per ricordarcelo ma prendiamo atto degli spunti proprio necessari per capire di come si è andata a concretizzare il più possibile appunto questo macro obiettivo il goal for previsto dall'agenda 2030. Allora entro il 2030 viene dato appunto il termine il primo target è quello di assicurarsi che tutti i ragazzi e le ragazze completino un'istruzione primaria e secondaria libera ed equa quindi per capirci obiettivo contro la dispersione scolastica l'istruzione primaria e secondaria il più possibile la dobbiamo fare praticamente per tutti i ragazzi evitando il fenomeno della dispersione. Sempre entro il 2030 assicurarsi che tutte le ragazze e ragazze abbiano accesso a uno sviluppo infantile precoce di qualità e alle cure necessarie all'accesso alla scuola dell'infanzia quindi questo target ha a che fare con quello che è un periodo della vita del bambino cioè quello dell'infanzia e della scuola dell'infanzia spesso troppo sottovalutato invece un'attenzione particolare affinché poi il passaggio anche alla primaria sia svolto in maniera insomma più adeguata possibile è uno dei target che sono stati previsti appunto in attuazione dell'agenda 2030. Ed ancora sempre entro il 2030 garantire la parità di accesso per tutte le donne e gli uomini ad una istruzione a costi accessibili di qualità tecnica quindi in qualche modo in questo caso sia parità di genere da un lato ma anche accessibilità da un punto di vista economico. Ancora entro il 2030 aumentare sostanzialmente il numero di giovani adulti che abbiano le competenze necessarie incluse le competenze tecniche professionali per l'occupazione per lavori dignitosi e per la capacità imprenditoriale quindi in questo caso l'attenzione è come sempre alle competenze non solo alle conoscenze ma all'acquisizione di competenze utili e in correlazione con il mondo del lavoro. Ovviamente io li leggo e andiamo in maniera molto veloce e rapida come sempre in maniera schematizzata poi voi magari fate gli approfondimenti necessari su internet soprattutto si trova molto per quel che riguarda l'ulteriore specificità dell'agenda 2030. Ancora proseguiamo eliminare le disparità di genere sempre entro il 2030 nell'istruzione e garantire la parità di accesso a tutti i livelli di istruzione e formazione professionali per i più vulnerabili quindi comprese le persone con disabilità le popolazioni indigene i bambini in situazioni vulnerabili quindi qui diciamo target mettiamoci inclusione i più vulnerabili le disabilità le persone con maggiore difficoltà. Ancora sempre entro il 2030 assicurarsi che tutti i giovani e una parte sostanziale di adulti uomini e donne raggiungano l'alfabetizzazione e l'abilità di calcolo quindi queste abilità fondamentali e poi eccolo qui entro il 2030 assicurarsi che tutti i discenti acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso l'educazione per lo sviluppo sostenibile stili di vita sostenibili diritti umani l'uguaglianza di genere la promozione di una cultura di pace e di non violenza. Ecco come possiamo vedere il termine sostenibilità è proprio la chiave dell'agenda 2030. Nel precedente video dicevo proprio come un collegamento con un altro provvedimento normativo lo possiamo fare cioè con la raccomandazione 2018 del Consiglio dell'Unione Europea dove appunto oltre a dedicare le otto competenze chiave proprio nel preambolo di queste otto competenze chiave si specificava il riferimento alla sostenibilità ora normalmente noi quando parliamo di sostenibilità ci viene automatico pensare subito all'ambiente no alla sostenibilità ambientale d'accordo è vero per carità il collegamento ci sta è chiaro però sostenibilità non è soltanto quella ambientale certamente anche quella ambientale la risposta ai cambiamenti climatici ma la sostenibilità è anche ad esempio nel rispetto dei diritti umani se vogliamo un mondo sostenibile un mondo sostenibile è un mondo dove i diritti umani sono e sono per tutti dove anche a livello proprio sociale a livello anche di di cultura emerga quella che è la non violenza e neanche una cultura della pace certo fa specie vedere come questi obiettivi siano stati indicati già nel 2015 e oggi nel 2022 purtroppo ci troviamo invece con una realtà mondiale che insomma non sembra proprio rispecchiare questi principi però la direzione diciamo dovrebbe essere questa certamente lo è dovrebbe esserlo sempre di più nel mondo scuola proprio per formare poi diciamo nuovi cittadini e quindi poi conseguentemente nuove civiltà questo è il fine e l'importanza fondamentale dell'istruzione e mi sono soffermato su questo target proprio perché è il target chiamiamolo della sostenibilità intesa sotto tutti i punti di vista non soltanto ambientale ma anche proprio del rispetto delle risorse e quindi dell'efficienza e dell'efficacia poi che bisogna ottenere in relazione alle risorse che evidentemente si hanno in ogni ambito non soltanto quello ambientale andiamo avanti altro target costruire adeguare le strutture scolastiche in modo che siano adatte alle esigenze dei bambini alla disabilità le differenze di genere quindi qui chiaramente creano un ambiente di apprendimento sano sia da un punto di vista edilizio ma insomma non solo tale da favorire l'apprendimento poi ancora entro il 2030 aumentare notevolmente l'offerta di insegnanti qualificati anche attraverso la cooperazione internazionale per la formazione degli insegnanti nei paesi in via di sviluppo quindi qui target è dedicato all'aumentare la qualifica professionale degli insegnanti insegnanti migliori e più qualificati portano normalmente a discenti migliori e a loro volta più qualificati poi c'è infine un altro obiettivo che era stato indicato entro il 2020 qui già possiamo dire se è stato raggiunto o meno e che è un obiettivo che si riferisce appunto ad espandere sostanzialmente a livello globale il numero di borse di studio a disposizione dei paesi in via di sviluppo in particolar modo dei paesi meno sviluppati personalmente non sono in grado di potervi dire esattamente se poi è stato effettivamente raggiunto come obiettivo ma era anche questa una delle direzioni chiaramente di essere più vicini sotto questo aspetto anche a quei paesi diciamo meno sviluppati. Ecco questi sono un pochettino tutti i target che chiamiamoli dei micro obiettivi che vanno a costruire complessivamente quello che è il macro obiettivo appunto di assicurare un'istruzione di qualità equi e di inclusiva per l'opportunità di un apprendimento permanente per tutti secondo quella che è stata la visione dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile di concerto con il MIR e anche con l'Indire. vi ricordo a tal proposito che trovate delle informazioni anche sull'indirizzo internet scuola2030.indire.it e lì potete vedere insomma diverse cose. A riguardo come sempre ti invito ad iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto vai a dare un'occhiata ai videocorsi magari se puoi essere interessato e ci vediamo al prossimo video.